Stiamo andando verso soluzioni o immaginando soluzioni che possano consentire l'inclusione sociale veramente a tutti e quindi anche includendo persone che fino ad oggi erano un po' escluse dalla programmazione dei servizi sociali. In che cosa consiste questo Alzheimer Caffè? È una mira a costruire un progetto, perché noi infatti abbiamo fatto un avviso di coprogettazione quindi adesso ci aspettiamo le proposte degli enti del terzo settore che ci auguriamo possono fare rete tra di loro. Mira a costruire dei percorsi che consentono alle famiglie e ai malati di Alzheimer di avere delle occasioni, delle opportunità per uscire fuori dall'isolamento sociale attraverso delle attività che possono essere di vario genere. Poi ovviamente lo vedremo rispetto alle proposte che arriveranno. Mentre per quanto riguarda l'autismo c'è stato un tavolo istituzionale con diverse aree. Sì, lì cambiamo proprio la prospettiva perché non siamo più nel campo di un progetto dell'ambito sociale ma di una macro area che comprende quattro ambiti diversi, cioè l'ambito di Crotone, quello di Ciro Marina, di Mesoraca e di San Giovanni in Fiore. Quindi praticamente parliamo di tutta la provincia di Crotone, inclusa appunto San Giovanni in Fiore.